Si chiude con un nuovo posto l'esperienza a Grand Slam di Kazan in Russia per la judoka molisana Maria Centracchio. Per la portacolore delle Fiamme Oro, due combattimenti affrontati nell'ambito della Pool C. Nel primo, contro la spagnola Isabel Puce, l'Azzurra si è imposta per il pont tecnico dopo 28 secondi di Golden Score. Dopo un richiamo all'Iberica per essere uscita dal tatami, la stessa avversaria è stata richiamata per passività. Quindi un falso attacco è costato il richiamo alla molisana nell'arco dei 4 minuti regolamentari, prima di arrivare al terzo richiamo per la spagnola e all'Ippon tecnico per la Centracchio. Di fronte alla testa di serie numero 2 del tabellone poi, l'olandese Sanne Vermeer, l'Azzurra ha finito però con il doversi arrendere. Dopo un richiamo all'avversaria per passività, è stata la Centracchio ad essere richiamata per falso attacco. Poi l'olandese, in due fasi di combattimento a terra, ha prima ottenuto il Vazari e poi l'Ippon a 10 secondi dalla fine dei 4 minuti regolamentari del combattimento. Grazie a tutti!